il mago te sa cos'è del vale signore e signori ma chi è Luisa Alberto? ma chi è? ma è un fenomeno toh oggi il video lo faccio così è un fenomeno è un campione è poco forte cioè ha fatto una partita egregia egregia cioè ha fatto delle cose incredibili non che prima fosse scarso ovviamente ragazzuoli prima era veramente forte oggi ha dato dimostrazione della sua potenza ragazzuoli oggi è partita sofferta fino alla fine soffertissima perché al primo tempo abbiamo giochicchiato ecco è come ho detto la prima partita oggi non sapevo come sarebbe andata se sarebbe stata come come quella col Borussia o come quella con la Sampdoria è stato un mix non ne abbiamo giocato come il Borussia ma non abbiamo fatto schifo abbiamo giocato normale a tratti si è rivisto il Borussia certe giocate hanno ripreso un po' le giocate che abbiamo fatto contro il Borussia e però partita abbastanza pulita fino all'ottantesimo perché dall'ottantesimo in poi abbiamo iniziato un i cazzoni a sprecare cose a buttar palle a lisciare a certo punto parolo pereira tutti a liscia palle pepereina veramente bella partita vorrei spendere una parola a favore di pepereina perché all'inizio magari è sembrato un po' incerto un po' traballante però o regà la prima partita di titolare un po' si doveva inventare infatti dopo al secondo tempo ha giocato molto bene parate bellissime decisive anche difficili su due tiri da fuori area del bologna ha fatto delle partite delle parate bellissime anche sulla traversa presa da da orsolini su punizione c'era è volato in cielo ha toccato rete delle stelle e quindi pepereina promossissimo promossissimo si si può dire vabbè vabbè non c'era un dubbio che perché è un fenomeno però è un mostro è fortissimo c'è ma poi esce velocissimo è una scheggia c'è veramente una scheggia recuperava palle ma poi ci si gira c'è quella dimestichezza col pallone c'è sembra un fenomeno eppure viene dalla salernitana veramente forte forte secondo me potrebbe essere un acquisto alla luisa alberto oppure alla mini inco che c'è chi te pare che che un po arrivano un po sottotono tipo luisa alberto no che era un po il vice felipe anderson e poi invece è esploso è è diventata un fenomeno e sono un pack pro veramente forte poi è scalante entra e poi esce il letterale entro spacco esco ciao questa non l'ho capita è entrato al posto di leva che era un po dolorante infatti l'ho visto un po le valse al primo tempo che non giocava molto bene e un po di errori e vabbè però insomma va bene così insomma se stava male è entrato e scalante al tempo è uscito per parolo ma perché vabbè e poi è entrato per era per era anche l'ho visto un po traballante ma essendo le prime partite giustamente un po ha fatto delle buone giocate murici stava per segnare che ha dato un fallo contro il murici che stava prendendo ha preso la palla sulla riga sulla fascia e l'ha fregata al giocatore stava andando in porta e ha dato fallo ma non era fallo poi che altro dire beh fares ha fatto dei cross di merda per tutta la partita ma dei cross bruttissimi bruttissimi o troppo lunghi o troppo mosci che va a fare un assist in rovesciata per immobile se fai così dicelo che ci prepariamo se devi fa schifo per tutto c'è che poi non schifo in campo ma nella parte in cui importava nella parte importante ovvero il cross e l'ultimo passaggio per tutta la per tutta l'azione magari giocava pure bene con gli scambi si faceva dei cross di merda eppure ha fatto sto e si è inventato sto sta rovesciata per Ciro bambò capite e ragazzuoli vittoria meritata penso anche se il Bologna alla fine è uscito molto fuori comunque col Bologna non è mai facile il Bologna lo temo molto anche perché è allenato da da Mialovic che è un ottimo allenatore come era un ottimo giocatore è diventato un ottimo allenatore infatti anche cioè da ciò che era diciamo cioè tu rivedi anche un po' Mialovic nel gioco del Bologna guarda le punizioni che hanno tirato perfette sia quella di Orsolini che ha preso la traversa sia alla fine una traversa a tagliare in mezzo aria bellissima quindi io il Bologna lo temo molto e infatti oggi è stata una vittoria sudata ma meritata e alla fine abbiamo concesso il gol vabbè Reina lì non poteva fare niente c'era tutti davanti e abbiamo rischiato anche di prendere il raddoppio cioè il pareggio e meno male che c'è stato un po' Uth alla Uth vorrei dire un'altra cosa su Uth oggi ha fatto due errori forse ma ha fatto una partita egregia cioè Uth è veramente fortissimo io penso che sia fortissimo cioè poi mandatemi a quel paese ma secondo me è fortissimo insieme ai cerbi fanno una tocco perfetta ha fatto delle entrate in scivolata assassine prendendo il pallone bellissime anticipava l'uomo cioè veramente grande Uth ha detto che è migliorato e che vuole dimostrarci di essere all'altezza bravo Uth mi tolgo il cappello di Luis Alberto e ti faccio un inchino perché ci ha dimostrato di essere un grandissimo difensore veramente è forte veramente forte Uth magari ha alcuni errori ma è normale è raro e è umano quindi oggi partita Correa sta facendo schifissimo da qualche partita speriamo che si riprendi il Tuku che ritorni il Tuku di una volta oggi bella partita e niente Rasuoli io penso di non avere nient'altro da dire alla fine reclamavano un rigore che secondo me non c'era perché Parolo cerca di calciare la palla l'Alicia fa una capriola su se stesso e sfiora col suo scarpino la punta dello scarpino avversario e l'avversario si sfracella al suolo tutta scena Rasuoli da me Luis Alberto Romero Alconcello è tutto io vi invito a rimanere sintonizzati sul canale perché uscirà in questi giorni il pre partita di Lazio Zenit spero sia Lazio Zenit io ho da due video che dico che è Lazio Zenit ma non è che sono proprio sicuro mi pare sia Lazio Zenit e che poi l'ultima sia il Brugge però non ne sono sicuro comunque il pre partita di Champions League che dovrebbe uscire se la partita è mercoledì dovrebbe uscire martedì oppure lo stesso mercoledì pomeriggio sperando i grossi non smadonne ma soltanto gioia ragazzuoli io vi invito a lasciare un bel like iscrivetevi al canale commentate guardate gli ultimi video usciti soprattutto il video su Among Us della Lazio che veramente ci ho messo tanto impegno nel produrlo spero vi piaccia ragazzuoli like commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video c'era ragazzuoli lo vedete sempre forza Lazio e dai che si è vinta pure questa